Ho visto che noi siamo? Noi siamo? Non credo. Se io siamo liberi. Non ho bisogno di programmiare. Non è la prima cosa. Noi, non ho bisogno di programmiare. Ci sono formato tra i giardini, dove vi raccogliere un'esperanza che per la nuova cursa. Mi un uo' parola con i cestanti inesperanto. Ili montrìgessi tre tivoli e poi dopo il tempo uno dei miei gruppi traducono l'informe alla Portugale. Più montrìgessi tre efficaci di svastigli. Qui allì a tolanta, lì a dì, per la storia, tamen vera c'è il mio polo parolìo, chiaro. Se la t'a perto d'acquariù, Viteria, t'a da lì o dì o dì canà? Lì, lì. Grazie a tutti. 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 Dime mamma, mi ha detto... Tu viestas tigerminat? Yes. Vietas Bebego Vietas Bebego Vietas Bebego Vietas Bebego